A sei anni, miglio, otto in prima, due in seconda, in dieci Turaco Jet, Siento, ma anche Terrible Model, molto seguita al totalizzatore. Allineamento completato, arretrato Totonno, buono l'allineamento, arretrato anche Turaco e anche Serafino. Via la macchina. Siento alla chiusura, per il momento va a lungo i birilli nei confronti di Samantha, che potrebbe già parcheggiare, a largo Terrible Model. Si va impiegata, ma i due puntano, 13 e 6 il lancio, passano entrambi, con la saura di Bum 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 Pane al comando. Rimane a largo Terrible Model. 400 violenti in 29.3 e Turaco Jet prende subito la via del largo e punta in avanti. Nelle prime posizioni anche suede del ronco, nella scia di Terrible. Si va dopo 600 in 44.3 da 1.14 e impiegati in diagonale Samantha Terrible-Turaco, poi Siento lungo i birilli suede, a precedere Terra-Cotona. Mezzo miglio in un minuto, proprio una virgoletta. E' cavalli che affronto nel penultimo rettilineo, con Turaco che gli è venuta molto dura, ma nonostante ciò punta in avanti. Il chilometro se ne va in 14.8, 14.7 di frazione. 500 alla meta, tre cavalli in lotta, si sposta a Siento per non rimanere chiuso e prende la scia di Turaco per anticipare St. John Very Nice. 14.3, 1.29.1, tre quarti di miglio. Traccheggia Turaco, sembra, ma Siento viene via in terza ruota per anticipare l'avversario. Samantha al comando, si ripropone Turaco, a largo Siento. I due vanno su Samantha, Turaco un corsone di questo Turaco Jet. La Villania ancora una volta. Chapeau, secondo Samantha e terzo Siento. Signori, bisogna veramente togliersi il cappello con questa Villani. 1.59.4, 1.14.6. Ma cosa c'ha nel DNA questa Villani? Che cosa c'ha nel DNA? Veramente very, very good. Ma chiaramente l'allenamento del papà Enzo, dottor Villani, la guida sempre essenziale e fondamentale di una Villani, sempre da circoletta arcobaleno, alla grande buon buon pane. Bene, Siento, i numeri. Turaco, 2.78 la quota. Linea allo studio. Allo studio. Allo studio. Allo studio. Allo studio. Grazie.